... Prima un minuto di silenzio in memoria del compianto presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, poi l'inno nazionale suonato dall'associazione musicale La Concordia. È cominciata così sabato mattina la duplice festa di San Costanzo. Da un lato le celebrazioni per il Santo Patrono, dall'altro l'inaugurazione della nuova piazza dedicata a Padre Pio, proprio al cuore del piccolo e grazioso borgo, di fronte a una platea di circa 200 persone. Per un sindaco è sempre un momento particolarmente importante inaugurare un'opera pubblica come oggi una piazza. Oggi lo è doppiamente perché questa inaugurazione importante per tutta la nostra comunità avviene proprio nel giorno del nostro Santo Patrono San Costanzo Martire. Ridoniamo alla collettività uno spazio molto importante all'interno delle mura castellane del capoluogo di San Costanzo, dove c'erano strade e pavimentazioni sicuramente non consone all'interno di un castello così importante, all'interno di uno dei borghi più belli della regione Marche, quale San Costanzo, Cerasa e quali sono Stacciola, che sono già state ristrutturate negli anni passati. Un lavoro molto importante, un progetto per cui la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale nel 2020 hanno stanziato 300 mila euro e hanno visto la progettazione interna al 100% dell'ufficio tecnico del Comune di San Costanzo, quindi senza ulteriori aggravi economici per poter far fare il progetto esternamente. Il progetto è stato redatto dall'architetto Fabrizio Carbonari, che è responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di San Costanzo e come vedete il risultato è questo. Dalla pavimentazione in asfalto e calcestruzzo a un selciato in pietra arenaria, per non parlare poi della nuova illuminazione e delle telecamere di prossima installazione. Comincia da qui la seconda giovinezza di questo luogo di incontro e di socialità, pronto ad accogliere persone ed eventi non appena il Covid lo consentirà. Una piazza ritrovata grazie alla volontà dell'amministrazione comunale, ma anche, come ricordato dal Vescovo Armando Trasarti, al lavoro di quegli operai il cui sudore resta fin troppo spesso dietro le quinte. Pietraselce, arenaria, il Trani, che è questa pietra bianca che a raggi parte dalla collegiata dei Santi Cristoforo Uncostanzo, come sentite dalle mie parole è un lavoro che ci rende veramente tanto orgogliosi, che la nostra comunità ci chiedeva da tanti anni. Finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Due momenti importanti. Uno, intanto, una socialità ritrovata in questo momento, dove la pandemia, pur ancora mordendo fortemente, riusciamo a mantenerla sotto controllo abbastanza bene grazie ai vaccini. Ecco, questo è il modo per riprendere anche quella socialità, cioè il fatto proprio della piazza come punto di incontro, di socializzazione tra le persone. Ecco, quindi aver ristrutturato e rimesso a nuovo una piazza, vuol dire riprendere un'attività di vita, di socialità importante. Poi ho anche messo in risalto il fatto che, tra le centinaia di borghi meravigliosi che noi abbiamo in questa regione, occorre sempre di più valorizzarli e renderli fruibili. E anche qui, oggi a San Costanzo, vediamo un segno importante in questo senso. il miglioramento, diciamo così, della manutenzione e una ristrutturazione di una piazza all'interno di un borgo storico, vuol dire ridare ancora di più vita a quel borgo. E ridare quindi più vita anche all'economia stessa, al turismo, alla partecipazione di tutti, alla socialità in questa nostra splendida regione.